Amici è arrivato il momento di muoversi perché stanno venendo stanno nascendo alcuni funghi prelibatissimi questo è il galletto o finferlo il cibarius il canterello cibario ottimo fungo eccolo qua non sono ancora grossi ma insomma questi sa per esempio sarebbero già da cogliere non li colgo perché qui non ho molta concorrenza quindi alziamo il sederino dalla poltrona e mettiamoci in giro per i boschi e buona fortuna